Un grande piano per abbattere le barriere architettoniche in città lo ha varato il Comune di Pordenone, un progetto a lungo termine che si realizzerà nel corso degli anni, ma che sta già prendendo forma con diversi interventi, il prossimo dei quali in via Beato Del Rico. A spiegare il PEBA, acronimo di Piano Eliminazione e Barriere Architettoniche, è l'assessora all'urbanistica Cristina Mirante. È un piano molto ambizioso perché prevede il rifacimento, l'adeguamento di tantissimi spazi urbani, marciapiedi in primis, ma non soltanto, anche piazze e altri luoghi pubblici che allo stato attuale non sono accessibili a tutti. In via Beato Del Rico in particolare, dopo l'estate, verranno ridisegnati gli spazi, suddividendo l'area per i pedoni e per le auto che oggi parcheggiano sopra il marciapiede. Ecco, una declinazione concreta di questo piano ci sarà per esempio in via Beato Del Rico. È un tratto di strada dove la più gran parte dei pedoni, anche semplicemente una persona anziana, magari con la spesa, non riesce a circolare, semplicemente senza incappare in un paletto, in un ostacolo, in una macchina parcheggiata in parte ed è previsto in maniera regolare, nel senso che nel tempo è stata regolarizzata questa situazione, metà sul marciapiede, metà a terra. Andiamo a eliminare completamente questa situazione, a rendere i percorsi divisi in maniera chiara, con pavimentazioni diverse, con dislivelli diversi, tra pedoni che avranno dai 2 ai 4 metri di spazio per poter camminare in maniera comoda e anche poter andare nei negozi che si affacciano su questo tratto di strada e le automobili che potranno parcheggiare nei 9 stalli che ci sono adesso e che ci saranno anche in futuro.